Messa in sicurezza della A24 e A25, il gruppo Toto minaccia di licenziare ben 383 addetti. La mancata firma per completare l'iteratorizzativo dei lavori di messa in sicurezza della strada dei parchi ha costretto la Toto ad avviare la procedura per il licenziamento di 383 lavoratori attualmente impiegati su cantiere A24 e A25. Il taglio di personale diventerà effettivo entro 75 giorni, viene comunicato in una nota della Toto Holding, della quale fa parte strada dei parchi. Concessionaria dell'autostrada A24 e A25, Laziale e Abruzzesi. Il gruppo dell'imprenditore di Pescara Carlo Toto sottolinea che la burocrazia gioca con la pelle dei lavoratori e accusa senza mezzi termini le istituzioni pubbliche, visto che fondi per la messa in sicurezza ci sono, ma manca solo la firma di un dirigente per avviare i lavori. Strada dei parchi ha sempre denunciato l'insufficienza dei fondi per intervenire sui piloni meno sicuri a causa delle forti scosse degli ultimi nove anni e il grave ritardo da parte del Ministero per le infrastrutture nell'autorizzare il progetto complessivo di messa in sicurezza, in origine 7 miliardi di euro, poi 3, previsto dalla legge di stabilità del 2012 seguita al terremoto dell'Aquila del 2009, nella quale si definiscono le autostrade strategiche in caso di calamità. Una storia di mala burocrazia, così si legge nella nota. I finanziamenti per completare i lavori per la messa in sicurezza urgente e antisismica sono disponibili. Il provveditorato alle opere pubbliche competente per Abruzzo e Lazio ha approvato i progetti in linea tecnica. Anche i decreti di sblocco del Ministero delle Infrastrutture sono pronti. Manca solo la firma di un dirigente per avviare i lavori. E così si gioca ancora una volta sulla pelle dei lavoratori.